Quando nel 2008 la polizia trova una macchina fotografica fuori uso dentro una lavatrice, gli investigatori cercano subito di recuperarne il contenuto e una volta riusciti a farlo scoprono degli scatti che definire agghiaccianti sarebbe riduttivo. Si trattava di fotografie che avrebbero svelato la sconcertante verità riguardo l'ossessione di una persona insospettabile. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e oggi voglio portarvi ancora una volta negli Stati Uniti, più precisamente a Mesa, in Arizona. Mesa è un soborgo che si trova a circa 30 chilometri da Phoenix ed è la terza città più grande dell'Arizona, infatti conta ben 500.000 abitanti, anzi più di 500.000 abitanti. È situata nel deserto del Sonora e ha un clima desertico con inverni miti ed estati molto calde. Ed è proprio qui, a Mesa, che vivono le due persone fondamentali per questa storia, Travis Victor Alexander e Jody Arias. Molti di voi lo so, sicuramente già hanno sentito parlare di queste persone ma specialmente di Jody Arias. Comunque spesso si fa fatica a comprendere appieno ciò che è accaduto e quanto davvero spaventose siano state le vicende che sto per raccontarvi, quindi partiamo subito con le presentazioni. Non prima però di avervi ricordato che su Pampling, trovate il link in descrizione, trovate tutte le magliette che indosso nei video e inserendo il codice Andrew riceverete anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Detto questo cominciamo davvero. Travis Alexander nasce il 29 luglio 1977 a Riverside, in California, e non ha un'infanzia che definirei serena. Fa parte di una famiglia molto numerosa, infatti ha ben sette fratelli. Entrambi i suoi genitori però sono tossicodipendenti, più precisamente fanno spesso uso di metanfetamine, una droga molto pesante. Lo scenario che si ripete ogni giorno è quello tipico di chi attraverso una dipendenza da droghe pesanti o alcol. I genitori dormono praticamente tutto il giorno anche per 3-4 giorni di seguito e quando sono svegli passano il loro tempo a cercare altra droga o in preda a crisi d'astinenza, crisi che possono sfociare anche in violenti attacchi di rabbia. Così Travis e i fratelli devono trovare il modo di sopravvivere da soli, razionando il poco cibo che hanno a disposizione e cercando di pensare da soli alla propria educazione e istruzione. Una situazione tristissima e ingiusta. Ribadisco che fare figli non è un obbligo, anzi forse sarebbe meglio se il fatto di fare figli venisse monitorato in modo da non farli fare proprio a tutti ecco. Non so cosa abbiano passato queste persone, sicuramente la tossicodipendenza è una condizione molto difficile da affrontare, ma decidere di fare otto figli trovandosi in quella situazione è come minimo irresponsabile. Ecco, magari non erano lucidi, magari pensavano di essere riusciti a superarla, essere in grado di badare i figli o magari erano solo sconsiderati. Questo non lo sappiamo, fatto sta che questi poveri bambini hanno dovuto crescersi da soli sostanzialmente. Gli anni infatti passano e la situazione non sembra affatto migliorare, anzi. Travis per questo motivo decide di scappare da quel contesto e dalla sua famiglia e trova rifugio dai nonni paterni, sempre a Riverside. I nonni ovviamente lo accolgono a braccia aperte e lo crescono come se fosse un figlio, instaurando anche in lui una profonda fede, più precisamente una fede per il mormonismo. I mormoni, a differenza dei cristiani, credono nella trinità, ma il padre e il figlio sono persone corporee e il corpo umano è simile a loro, mentre lo spirito santo è un essere immateriale o di materia più sottile. Un essere spiritico? No, non saprei come spiegarlo sinceramente. Travis comunque si lega molto in fretta a questa nuova religione, probabilmente perché la vede anche come una via di uscita dalla sua vecchia vita e una possibilità di rinascita. La fede lo accompagna quindi durante tutta l'adolescenza, tant'è che dopo il diploma decide di fare una sorta di pellegrinaggio insieme alla sua chiesa, un pellegrinaggio che rappresenta un rito di passaggio, tra virgolette, per diventare un mormone a tutti gli effetti. Successivamente il ragazzo decide di trasferirsi a Mesa, in Arizona, e il motivo di questa scelta è sostanzialmente che a Mesa c'è una grande comunità che pratica proprio il mormonismo, e Travis sentiva il bisogno di avere vicino una confraternita che praticasse la sua stessa fede. Oltre a ciò, trova rapidamente lavoro presso la Prepaid Legal Services, una società americana che vende prodotti di servizi legali direttamente al consumatore tramite il marketing multilivello, il famoso multilevel marketing che in pratica è uno scam, sono quegli schema ponzi legalizzati. Comunque Travis oltre al suo lavoro passa il suo tempo libero dividendosi tra la chiesa e la sua passione di oratore motivazionale, che coltiva sempre all'interno dell'azienda per cui lavora. L'oratore motivazionale in sostanza è una figura che deve andare oltre la persuasione e motivare le persone ad agire e fare qualcosa di concreto attraverso un discorso appunto motivazionale che sarebbe un tipo di discorso molto persuasivo. I guru praticamente. No vabbè, non penso fosse proprio la stessa cosa però ci si avvicina secondo me. Lui principalmente comunque utilizza la sua storia tormentata per cercare di aiutare le persone che si trovano in una situazione simile, oltre a gestire un blog in cui si racconta. Mentre fa tutto ciò comincia anche a scrivere un libro. Insomma la sua vita sociale e lavorativa è molto attiva, Travis è ben apprezzato da tutti ed essendo di bell'aspetto attira anche molte ragazze. Grazie alla perseveranza sul lavoro riesce poi ad acquistare una casa di proprietà e stabilirsi definitivamente a mesa. Insomma nonostante l'infanzia sia stata dura per Travis, la sua vita sembra finalmente andare per il verso giusto. Ed è grazie al suo lavoro durante una conferenza che fa la conoscenza della seconda persona importante di questo caso, Jody Arias. Jody nasce il 9 luglio 1980 a Salinas in California. È la più grande di tre fratelli e a differenza di Travis ha la fortuna di crescere in un ambiente relativamente sereno e con dei genitori presenti. Nonostante questo Jody si rivela subito essere una bambina estremamente furba e fin troppo incline a fare i capricci. Questo atteggiamento poi peggiora con l'arrivo dell'adolescenza, quando subentra la tipica fase di ribellione. I genitori, quando Jody è ancora alle medie, scoprono che la ragazzina coltivava della marijuana sotto il tetto di casa loro e temendo quindi che Jody facesse uso anche di altre sostanze o nascondesse comunque qualcos'altro, decidono di perquisire la sua stanza e di tenerla sotto controllo impedendole di uscire con gli amici e aumentando la durata delle sue punizioni. Jody, che già è di natura e molto ribelle, ovviamente non sta zitta a subire e sfoga costantemente la sua rabbia contro i genitori. Così litigate e i problemi non fanno altro che aumentare. Quando Jody è al liceo, si trasferisce insieme alla sua famiglia e questo crea abbastanza trambusto nella sua vita. A quanto pare a seguito del trasferimento aumentano anche gli episodi di rabbia. Jody infatti si rivela sempre più violenta verbalmente e alterna episodi di presunta tranquillità a momenti di rabbia incontrollata, tant'è che i genitori pensano potesse soffrire di un disturbo bipolare. Nonostante ciò le cose sembrano migliorare quando Jody scopre una sua grande passione, la fotografia. Questa l'aiuta a tranquillizzarsi e a trovare momenti di svago anche fuori dal contesto di casa. Jody quindi comincia a portare la sua macchina fotografica con sé ovunque vada e non dimenticatevi di questa macchina fotografica perché purtroppo tornerà più avanti. Nel 2004, quando ha 24 anni, la ragazza si trasferisce a Palm Desert, sempre in California, con il suo fidanzato dell'epoca. Jody in quel periodo continua a coltivare la sua passione per la fotografia e trova anche un impiego nella società PPL, Prepaid Legal Services, ovvero la stessa per cui lavorava Travis. Adesso questa società si chiama Legal Shield, ma all'epoca si chiamava PPL, quindi la chiamerò così. Nel settembre del 2006, la PPL organizza una conferenza di lavoro a Las Vegas nella quale invita a partecipare alcuni dipendenti di tutto il paese. Tra questi ci sono sia Travis che Jody e infatti è proprio in questa occasione che si conoscono. Dopo essersi presentati, entrambi notano subito molto feeling, tanto che al momento della cena si siedono vicini e non la smettono un secondo di parlare, come se fosse scattato qualcosa, una connessione molto profonda, molto intima e immediata tra i due. La conversazione si prolunga poi fino a tarda notte e il giorno dopo Travis non fa che parlare di Jody ai suoi amici. Dice loro quanto sia stato bello passare la notte con lei, parla del fatto che fosse una ragazza sveglia, piena di ambizioni e che coltivava la bellissima passione per la fotografia. L'unico aspetto di Jody che Travis ritiene un po' negativo è il fatto che non seguisse la sua stessa religione e infatti nel mormonismo è vietato sposare una persona che non fa parte della religione appunto. Comunque terminati i giorni della convention, Travis e Jody devono ritornare nelle rispettive città in cui vivono, ma decidono di scambiarsi i numeri per restare in contatto. Travis vi ricordo si trova a Mesa in Arizona e Jody a Palm Desert in California. I due comunque nonostante la lontananza non riescono proprio a dimenticarsi l'uno dell'altra e le chiamate, che all'inizio erano saltuarie, diventano quotidiane e le email sempre più frequenti. Jody si sente quindi presto in dovere di terminare la sua relazione con il suo ragazzo. A questo punto, quando ormai Jody è singolo e può finalmente dedicarsi ad una possibile relazione con Travis, lui prende la decisione di introdurla al mormonismo. Le regala il libro di Mormon, che è un altro testamento di Gesù Cristo in cui ci sono i principi della Sacra Bibbia. Cioè, il libro di Mormon non sostituisce la Bibbia, sono semplicemente opere complementari. Travis quindi la invita in chiesa con lei diverse volte e in ogni conversazione cerca sempre di citare alcuni versi della Bibbia per tentare di avvicinarla alla religione. E quella in realtà per Jody non era neanche la prima volta che si avvicinava al mormonismo. Anzi, nel suo lavoro era molto frequente che le persone con le quali interagiva seguissero questa religione. Per questo motivo, per lei non è affatto difficile sentirsi coinvolta. E circa due mesi dopo, siamo a fine novembre del 2006, Jody viene battezzata. E colui che la battezza è proprio Travis. La loro relazione però viene ufficializzata solo nel febbraio del 2007, quando ancora i due vivevano in stati diversi. Le chiamate e le email a quel punto però sono all'ordine del giorno, per cui decidono di partire insieme in vacanza ogni volta che possono. Lei porta sempre con sé la sua macchina fotografica per immortalare i momenti con lui. E nonostante la religione mormone vieti severamente di avere rapporti sessuali, in quanto considerati atti impuri, fuori dal matrimonio, Travis cede comunque alla tentazione. E ai suoi amici rivela che Jody per lui era come una dipendenza, non poteva proprio farne a meno. Tornati dalle vacanze, i due cercano comunque sempre di vedersi il più spesso possibile, nonostante la lontananza. Jody quindi comincia ad andare a trovare Travis sempre più spesso. E a volte si ferma anche qualche giorno da lui. Insomma, tutto sembra andare a gonfie vele, ma la magia tra di loro, come potete immaginare, lascerà presto spazio a qualcosa di molto contorto. Jody comincia a passare sempre più tempo a casa di Travis, ma dovete sapere che lui non viveva da solo. Da quando aveva acquistato la casa, aveva cominciato ad affittare alcune camere ai suoi amici. Questi conquilini dunque cominciano a vedere Jody sempre più spesso, conquilini ma anche amici di Travis in generale, ma soprattutto comunque iniziano a notare dei strani comportamenti in lei. Proprio per questo decidono di mettere in guardia Travis. Un giorno proprio lo prendono da parte e esprimono la loro preoccupazione per il loro rapporto, dicendogli di aver notato che Jody era estremamente possessiva nei suoi confronti e che negli ultimi tempi non gli lasciava spazio, proprio per niente. Probabilmente loro hanno capito subito che qualcosa non andava, perché oltre a notare comportamenti possessivi e ossessivi nei confronti di Travis, Jody lo seguiva letteralmente ovunque quando era da lui. Non lo andare al bar con gli amici o addirittura in bagno. Spesso lo aspettava fuori dalla porta anche per un'ora intera. Aveva iniziato a controllare le sue email, gli chiedeva con chi fosse al telefono e tutte cose del genere. Proprio per questo quel giorno i suoi amici avevano deciso di parlargliene. Quel giorno però anche Jody era in casa, per cui lo hanno proprio preso da parte, l'hanno fatto sedere in camera da letto, chiuso la porta e gli hanno detto di aver notato tutti quei comportamenti un po' tossici da parte di Jody. In quell'occasione gli dicono anche che a volte hanno quasi avuto il timore che lei avrebbe potuto fargli del male se avesse scoperto che lui si sentiva con un'altra. Cosa che a quanto pare faceva, non ho capito benissimo questa parte. Comunque poi ad un certo punto uno degli amici di Travis si avvicina alla porta, che avevano ovviamente chiuso, e l'apre di scatto. E lì dietro c'era proprio Jody, ferma, che origliava tutto. Gli amici di Travis non fanno nessuna faccia sorpresa perché se lo aspettavano, anzi l'hanno fatto proprio come prova del fatto che avevano ragione. Guarda, cioè, gli hanno detto guarda, se siamo sicuri che adesso lei è qui che ci sta avvicinando, ha aperto la porta ed era lì. Ma lui in quel momento rimane un po' di stucco e forse è proprio lì che apre gli occhi e inizia a capire che forse le persone intorno a lui avevano ragione. Un amico di Travis quindi prende Jody da parte e le dice che loro non avevano niente contro di lei, ma da buoni migliori amici avevano dovuto informare Travis riguardo i loro dubbi su di lei riguardo le loro preoccupazioni proprio per il suo bene. A lei però non fregava proprio nulla di quello che pensavano loro, voleva solo sapere cosa pensasse Travis. Era convinta che lui la amasse e che non avrebbe mai voluto separarsi da lei, almeno non in maniera così inaspettata. Le sue speranze o convinzioni però vengono smontate proprio quel giorno. Quella sera Travis prende Jody da parte e le dice che preferisce terminare la relazione, probabilmente anche con un tono deluso. Lui non avrebbe voluto rompere con lei ma le circostanze lo stavano costringendo a farlo. Quindi le dice di andarsene e di non contattarlo più, ma come immaginate non sarà affatto così. Nelle settimane successive quando sono di nuovo lontani e in due stati separati ricominciano a telefonarsi spesso col fine di cercare di riparare la relazione. Poi però lei scopre che Travis in quel periodo stava avendo un flirt con un'altra. Ovviamente va su tutte le furie. Questa volta decide lei di chiudere il rapporto definitivamente, ma questa decisione non dura troppo a lungo. Infatti dopo poco prova a rilacciare i rapporti. Insomma non è chiaro esattamente quanto sia durato questo tir e molla, ma ad un certo punto Travis decide di lasciar perdere definitivamente con questo rapporto. Alla fine è morboso. È da quel momento che emerge il vero lato di Jody. La ragazza comincia ad intasarlo di e-mail, il che mi ha fatto ricordare Baby Rain Deer, ma vabbè. E si inventa la storia di avere uno stalker che la stava seguendo, che molto spesso lo osservava dalla finestra e che in sostanza la voleva obbligare a stare con lui, a volte minacciandola. Gli dice che aveva davvero paura per la sua incolumità a causa di questo stalker e così Travis, che è di animo buono e probabilmente nutre ancora dei sentimenti per lei, inizia a preoccuparsi seriamente e decide di parlarne con i suoi amici. Loro però semplicemente non ci credono. Alla fine erano stati proprio loro a convincerlo di mollarla perché secondo loro aveva qualcosa che non andava. Quindi ancora una volta cercano di farlo ragionare dicendogli che molto probabilmente si stava inventando tutto, che in realtà non c'era nessuno stalker e che questa era solo una scusa, un pretesto per invitarla a vivere da lui, magari in maniera definitiva così si sarebbe sentita più a suo agio, più al sicuro. E così lui si convince e ragionandoci decide di non credere a Jodie. Quindi quando lei capisce che Travis non aveva intenzione di credere alla storia dello stalker, prende una decisione piuttosto drastica e a dir poco allarmante, se ci mettiamo nei panni di Travis. La ragazza decide di lasciare la sua casa in California e indovinate un po', si trasferisce a Mesa, esattamente nello stesso quartiere di Travis, senza dirgli nulla. Ma non passano molti giorni dal trasferimento che Jodie si presenta a casa sua per dargli la bella notizia. Peccato però che al suo arrivo scopre che lui non era solo in casa, era con un'altra ragazza e sembrava a tutti gli effetti una ragazza con cui insomma c'era qualcosa. Da quel momento quindi qualcosa di strano scatta dentro Jodie, qualcosa che le fa tirare fuori il suo lato più inquietante e morboso. La ragazza comincia a presentarsi a casa sua senza preavviso, comincia a osservarlo dalle finestre e pensate che a volte entra pure in casa sua attraverso la porticina del cane. Travis in tutto ciò si sente abbastanza impotente, forse non sa come reagire perché capita spesso che la faccia restare a dormire per la notte e che abbia anche dei rapporti sessuali con lei. Tuttavia lui vorrebbe chiudere definitivamente la relazione, ma dato che ogni volta che ci aveva provato non aveva funzionato, cerca di dare poco peso a tutta questa strana situazione e comincia semplicemente a tollerarla sperando che Jodie prima o poi mollasse la presa. Intanto cerca anche di dedicarsi alla nuova relazione con una ragazza chiamata Lisa che faceva parte della sua chiesa, ma quando Jodie lo scopre non la prende proprio benissimo. In qualche modo Jodie era riuscita ad hackerare alcuni account della posta elettronica di Travis, così facendo aveva avuto praticamente l'accesso per monitorare continuamente i messaggi che si inviava con Lisa. Ed è così che riesce a scoprire chi è la ragazza, cosa fa e tutta una serie di altre informazioni su di lei. Dai messaggi poi Jodie capisce subito che Lisa si stava avvicinando molto a lui, passava anche sempre più tempo a casa sua e come vi dicevo molto spesso Jodie si appostava fuori dalla finestra e li osservava. Nella sua testa questa relazione non poteva andare avanti. Così decide di dover fare qualcosa per allontanare Lisa da Travis. Jodie inizia a molestare Lisa e a spaventarla. Comincia andando a casa sua tardanotte e bussando a porte e finestre. Ovviamente aveva scoperto il suo indirizzo grazie ai messaggi che si scambiava con Travis. Poi continua mandandole delle mail minatorie con un altro account. Ma questo comunque per lei non era abbastanza. Una sera Lisa è a casa di Travis tranquilla come molte altre volte quando ad un certo punto il suo cane, il cane di Travis, inizia ad abbagliare verso la finestra come se fuori ci fosse qualcuno. Qualcuno ovviamente era Jodie. Travis quindi la sorprende mentre sbirciava da una delle finestre e lei si difende dicendo che li stava semplicemente guardando mentre si rilassavano come se fosse una cosa normale no? Cioè chi è che non lo fa? Dai vi stavo solo guardando mentre vi rilassavate no? Lui ovviamente inizia a spaventarsi sul serio. Il comportamento di Jodie stava diventando sempre più ossessivo e adesso anche spaventoso. A quel punto Travis le urla in faccia di andarsene subito. E la serata si conclude così con non poche preoccupazioni per Travis e Lisa. Il giorno dopo poi Lisa riceve una mail di minaccia da parte di un utente sconosciuto. Nel messaggio questo utente le dà della puttana e le dice che Dio la punirà per i suoi comportamenti impuri. A quel punto Lisa inizia davvero ad aver paura. Dice a Travis di non riuscire più a gestire questa situazione e che se Jodie non se ne fosse andata per sempre allora sarebbe stata Lisa a sparire dalla sua vita. Il ragazzo a quel punto è molto frustrato, non sa che cosa fare ma non ha intenzione di permettere a Jodie di rovinargli una relazione che stava comunque andando bene solo perché lei era gelosa e non voleva che si vedesse con questa ragazza. Un giorno quindi la chiama e le parla spiegandole che lui non riusciva più a vivere questa situazione di angoscia continua, costante. Le dice che si sarebbe sentito molto più tranquillo e al sicuro se lei fosse tornata in California. In questo modo avrebbero potuto stare lontani per un po' e magari chissà si sarebbero potuti ritrovare dopo qualche anno. Al che Jodie con grande sorpresa di Travis ma di chiunque prende bene la notizia e poco dopo torna davvero in California ma non a Palm Desert decide di tornare nella città natale dove va a vivere con i suoi nonni. Quindi la ragazza comincia anche a lavorare come cameriera nell'attività di famiglia, un ristorante dei suoi genitori. Nel tempo libero in questa sua nuova vita in California continua a dedicarsi alla sua passione per la fotografia e intanto non si fa mancare qualche appuntamento galante con potenziali partner. Ed è così che conosce un altro uomo, un ragazzo di nome Ryan. Anche Ryan lavora per la società PPL. Lo so è assurdo lavorano tutti lì, vabbè. E nonostante il rapporto tra i due vada bene, lui non vive in California ma ne lo aiuta e la distanza ovviamente rende complicato far andare bene le cose, far nascere una vera e propria relazione. Travis intanto è andato avanti e nel febbraio del 2008 ha conosciuto un'altra ragazza ad una serata per i mormoni single della chiesa. Perché a quanto pare fanno anche queste serate, vabbè. Il suo nome è Mimi, è una ragazza timida ma molto sorridente. È colta e rispecchia quasi tutte le qualità che Travis ricerca in una ragazza. Lui ovviamente si invaghisce subito e vorrebbe cominciare subito ad uscire con lei, avere una relazione, insomma andare avanti, portare avanti questa conoscenza. Ma Mimi non sembra intenzionata a voler cominciare un rapporto sentimentale con lui e gli dice che preferirebbe restassero amici. Intanto mentre Travis sembra condurre finalmente in maniera un po' più tranquilla comunque la sua vita, ecco che rispunta a Jodie. La ragazza comincia di nuovo a chiamarlo e all'inizio le chiamate sembravano brevi e tranquille. Jodie sembrava semplicemente interessata a sapere come se la passasse Travis e così i due ricominciano anche a scambiarsi qualche mail ogni tanto per raccontarsi un po' di novità. A questo punto della storia però, devo essere sincero, non sono riuscito bene a capire cosa sia effettivamente successo ma di punto in bianco Travis ha iniziato a scrivere a Jodie di smetterla di cercarlo e in alcune email le ha scritto di essere una bugiarda e di averlo deluso. In sostanza le dice di non cercarlo mai più e infatti per un po' di tempo Jodie sembra finalmente e di nuovo mollare la presa. Travis in tutto ciò continuava a gestire il suo blog di cui vi parlavo all'inizio e da quando c'era stato l'allontanamento definitivo da Jodie, l'ultimo, si è potuto chiaramente notare che aveva iniziato a pubblicare sempre più articoli riferiti a lei, anche se non l'ha mai nominata e non l'ha mai ammesso chiaramente. Il suo ultimo articolo viene pubblicato il 18 maggio 2008, è intitolato Why I Want to Marry a Gold Digger, perché voglio sposare una cercatrice d'oro. Per inciso, Gold Digger si riferisce a quelle persone che instaurano rapporti, anche amorosi, col solo fine di beneficiarne economicamente. Nell'articolo Travis scrive di quanto si senta solo e di quanto tutto il tempo passato da single lo facesse sentire ancora più lontano dall'amore, soprattutto perché molti i suoi amici e coetanei erano già sposati e con figli. Per questo nel blog scrive di come avrebbe cambiato tutte le priorità nella sua vita e si sarebbe davvero dedicato a cercare la donna che avrebbe amato per sempre. E questo appunto sarà l'ultimo articolo che pubblicherà. Nel frattempo, Jodie era appunto tornata a vivere in California con i nonni, giusto? Ecco, un giorno la ragazza decide di uscire e dice ai nonni che sarebbe tornata il giorno dopo. Ma lo stesso giorno in cui lei è uscita di casa è avvenuto un furto con scasso nell'abitazione dei nonni. Non si sanno bene le dinamiche, si sa solo che i nonni sono usciti nel pomeriggio per fare una passeggiata e a loro rientro la casa era completamente sotto sopra. Ovviamente hanno subito allertato la polizia e poco dopo si è presentata una pattuglia che ha perquisito l'abitazione. Ed è venuto fuori che l'unica cosa che era stata rubata era la pistola del nonno di Jodie. Questo risulta subito molto, molto ambiguo perché non era stato rubato letteralmente nient'altro dalla casa. Non mancavano soldi, gioielli, niente di valore, solo la pistola. Jodie a suo rientro si mette subito ad aiutare i nonni a risistemare la casa e decide di passare con loro qualche giorno in casa, preoccupata che i ladri potessero tornare. Arriviamo così a giugno, precisamente il 2 giugno. Jodie quel giorno decide di andare nell'Oiuta per vedere la sua nuova fiamma, Ryan. Da questo momento in poi cominciano ad accadere tutta una serie di cose davvero ambigue. Jodie, per raggiungere l'Oiuta, sceglie di prendere un'auto a noleggio. E una cosa molto strana è che ha deciso di andare a prenderla in un posto che distava un'ora da casa sua, quando molto probabilmente ce n'erano già decine disponibili molto più vicino. Insomma, non aveva molto senso che andasse fino a lì. Tuttavia quel giorno prende la macchina a noleggio e inizia il suo viaggio verso l'Oiuta. Tra parentesi, guardando su Google Maps ho visto che ci vogliono circa 15 ore di macchina, quindi calcolando eventuali soste e magari una tappa in un hotel per la notte, Jodie sarebbe dovuto arrivare il 4 giugno. Invece la ragazza arriva a destinazione soltanto il 5. Per quasi tutto il tragitto ha tenuto il telefono spento. L'ho acceso solo per mandare delle mail a Travis o per chiamarlo. Gli ha anche lasciato un messaggio in segreteria in cui sostanzialmente gli parlava di alcuni suoi progetti futuri e gli diceva che per sbaglio aveva sbagliato proprio la direzione, cioè mentre viaggiava verso l'Oiuta aveva sbagliato la direzione andata completamente dall'altra parte e quindi il viaggio si sarebbe allungato notevolmente. Negli stessi giorni intanto Travis si stava preparando per un altro viaggio di lavoro, questa volta in Messico, e aveva deciso di invitare anche Mimi, la ragazza di cui vi parlavo prima, che però continuava a non ricambiare i suoi sentimenti. Per questo lui, davvero gentiluomo, decide di invitarla in amicizia per godersi un po' il sole messicano e chissà magari avrebbe potuto farsi conoscere meglio e lei avrebbe potuto invaghirsi di lui, non lo so, lui sperava questa cosa qui. La partenza comunque era prevista per il 9 giugno, ma nessuno aveva più notizie di Travis da qualche giorno. Amici e colleghi iniziano quindi a preoccuparsi. Travis non era proprio il tipo da non rispondere alle chiamate di lavoro o in generale sparire senza motivazioni. Anche Mimi, che aveva accettato di partire insieme a lui, prova a mettersi in contatto diverse volte senza ottenere alcuna risposta. A questo punto gli amici e Mimi iniziano seriamente a preoccuparsi e decidono di presentarsi a casa sua il giorno prima della partenza, ovvero l'8 giugno. Bussano, urlano il suo nome, sbirciano dalle finestre, ma nessuno viene ad aprire. Decidono così di passare dal garage perché conoscevano il codice di sblocco e non appena entrano nell'abitazione sentono della musica sparata a tutto volume e scoprono così che in casa in realtà c'era il coinquilino di Travis che però non li aveva sentiti proprio a causa della musica alta. Il coinquilino chiede preoccupato cosa stesse succedendo e perché fossero entrati così senza preavviso. Gli amici quindi gli chiedono subito se sapesse dove fosse Travis o se per caso fosse a casa, ma il coinquilino risponde di no. Dice che Travis era già partito per il Messico da qualche giorno. Gli amici quindi si guardano perplessi e gli dicono che la partenza per Cancun era prevista per il 9, il giorno dopo. Quindi Travis non poteva essere già partito senza dire nulla, anche perché come vi dicevo aveva in programma di portare Mimi con lui. Salgono così tutti al piano di sopra cercando di entrare in camera sua, ma la porta è chiusa a chiave. Il coinquilino prende una chiave di riserva e apre la porta e la prima cosa che gli assale è un fortissimo odore, non capiscono subito di che odore si tratti, non riescono a identificarlo, non l'avevano mai sentito ma era molto sgradevole. Rimangono quindi sullo stipite, costretti a coprirsi il naso mentre sbirciano all'interno della stanza per vedere se Travis fosse lì. Il coinquilino decide di farsi coraggio ed entrare dentro la stanza e la prima cosa che nota è una gigantesca chiazza di sangue sul tappeto. Guardandosi intorno però si accorge che il sangue in realtà era sparso ovunque, sui mobili, sul letto, sui muri. Gli altri amici entrano nella stanza dopo di lui e si dirigono nel bagno privato della camera, mentre l'odore si fa sempre più forte e le macchie di sangue aumentano. Lì, nella vasca da bagno, in posizione fetale, c'è il corpo senza vita di Travis. Mimi, sconvolta, chiama immediatamente la polizia. Gli agenti insieme ai detective non tardano ad arrivare sulla scena. Ovviamente l'intera abitazione viene sigillata e la stanza di Travis viene esaminata a fondo. Tutti gli amici vengono interrogati sul posto e viene chiesto loro se avessero qualche idea su chi potesse aver compiuto questo gesto orribile o se sapessero di qualcuno che voleva fargli del male. Gli amici ovviamente non perdono un secondo e fanno subito il nome di Jodie. Dicono agli agenti che lei era una sua ex fidanzata che non si era mai data pace dopo la rottura con lui e che ha continuato per un anno intero a stalkerarlo e a inviare minacce a chiunque provasse ad avvicinarsi a lui. Il che era vero. Ora, quello che devono fare gli investigatori è analizzare il sangue all'interno della stanza e all'interno del bagno per risalire a un ipotetico assassino, quindi trovare impronte digitali, capelli, unghie o una qualsiasi traccia che permetta di capire chi ha compiuto il crimine. A giudicare dal gesto così crudele ed efferato non è difficile per gli investigatori capire che si tratta di un crimine passionale. Travis infatti ha evidenti segni di difesa su mani e braccia, ha una ferita d'arma da fuoco alla testa e conta ben 27 ferite d'arma da taglio. La gola gli era stata praticamente tagliata da un orecchio all'altro. Il medico legale, esaminando il corpo, arriva alla conclusione che Travis Alexander deve essere morto il 4 giugno del 2008. Nonostante tutti gli amici di Travis sapessero bene che poteva essere stata solo Jody, al momento della scoperta purtroppo mancavano le prove. Molto presto viene ovviamente organizzato il funerale di Travis che riunisce ogni persona a lui cara, indovinate un po'. La stessa Jody si presenta al funerale anche se non so come abbia fatto a scoprire il giorno e il luogo della cerimonia. Nello stesso periodo Jody chiama spesso la centrale di polizia di Mesa per chiedere più volte di poter parlare con il detective che si occupava del caso perché a detta sua aveva informazioni che potevano rivelarsi molto utili. In realtà Jody voleva solo depistare le indagini dicendo che in quei giorni lei non si trovava a Mesa. Se vi ricordate infatti doveva andare a trovare Ryan nello Utah. Comunque alla fine riesce a parlare con un detective a cui dice che molto probabilmente erano state due persone ad uccidere Travis, proprio a causa della violenza del crimine. E anche perché Travis era un ragazzo alto, in forma, quindi ucciderlo da soli sarebbe stato complicato, se non impossibile. Il detective accoglie in maniera molto positiva alle supposizioni di Jody, anche se gli sembra parecchio strano che fosse stata così insistente nel voler parlare con lui. Ma gli sembra anche strano che la ragazza ripetesse le stesse cose molto spesso. Comunque le indagini continuano, indagini grazie alle quali vengono trovate un'impronta digitale sospetta sul muro e una minuscola macchia di sangue sulla lavatrice in bagno. Entrambe vengono subito fatte analizzare e nell'attesa dei risultati gli investigatori decidono di guardare all'interno della lavatrice, dove trovano delle lenzuola e alcuni vestiti completamente fradici. Come se Travis avesse fatto partire la lavatrice ma non avesse mai avuto la possibilità di svuotarla. Ma non solo, dentro trovano anche una macchina fotografica, ormai non funzionante. Decidono comunque di provare a recuperare qualche informazione, così scoprono che era stato cancellato tutto il materiale dalla memory card della macchina. Non so se avete mai avuto a che fare con una macchina fotografica e con eventuali memory card, ma per cancellare tutte le foto all'interno servono vari passaggi e questo fa capire agli investigatori che non poteva trattarsi di un caso. Chiunque fosse stato a cancellare quel materiale lo aveva fatto di proposito perché non voleva che venisse visto. Si scopre però che in realtà c'era un modo per recuperare le fotografie, anche se era un processo che richiedeva molto tempo. La memory card viene quindi portata a degli esperti e il 19 giugno 2008 fortunatamente viene recuperato tutto quanto. La prima foto che viene rinvenuta ritrae Jodie completamente nuda sul letto di Travis. Una foto che fa pensare, sì, ma che non prova nulla. Alla fine gli investigatori sapevano che Jodie era un'ex fidanzata di Travis e quelle foto potevano tranquillamente risalire al periodo in cui stavano insieme. Tuttavia, già 15 anni fa, le memory card erano piuttosto evolute. Esisteva già il timestamp, ovvero una sequenza di caratteri grazie ai quali si può risalire esattamente al momento in cui sono state scattate le foto. E la data di quelle fotografie era il 4 giugno del 2008, ovvero la notte dell'omicidio. Finalmente quindi i detective, anche grazie alle testimonianze degli amici di Travis, riescono ad identificare Jodie come l'assassina, o almeno come sospettata principale. Decidono comunque di analizzare le foto successive, ovviamente, che ritraggono Travis, nudo sul letto, e successivamente lui sotto la doccia, mentre l'acqua gli scorre addosso. Questa poi è stata l'ultima foto scattata a Travis, l'ultima foto che lo ritrae vivo. Le foto successive sono del poco scioccanti e per ovvi motivi non le posso mettere qua su YouTube, ma ve le posso descrivere. La fotocamera ha continuato a scattare per tutta la durata dell'omicidio, probabilmente perché è caduto a terra. Prima infatti si vede Travis a terra in una pozza di sangue, e in una foto successiva si vede lui con una lesione alla testa e la gamba di qualcun altro nell'angolo dello scatto. Gli investigatori deducono quindi che Jodie deve aver attaccato Travis mentre era sotto la doccia e deve aver lasciato cadere la fotocamera che ha quindi continuato a scattare. Travis a questo punto deve aver provato a scappare, ed è lì che Jodie gli ha tagliato la gola, lo ha trascinato di nuovo in bagno e poi gli ha sparato alla testa. Vi ricordate il famoso furto con scasso avvenuto a casa dei nonni di Jodie in cui era sparita solo la pistola, ecco svelato il mistero. Comunque ha poi preso Travis e lo ha rimesso nella doccia squarciandoli tutto il corpo e infine ha cancellato le foto dalla memory card e ha messo sia la macchina sia tutte le lenzuole vestiti nella lavatrice per poi farla partire e andarsene. La polizia può finalmente procedere con l'arresto. Viene inviato un mandato alla centrale di polizia della California e gli agenti vanno subito a bussare alla casa dei nonni di Jodie dato che la ragazza aveva la residenza lì. Mentre perquisiscono la proprietà scoprono anche l'auto a noleggio, al cui interno trovano dei vestiti, dei coltelli, una pistola calibro 9 e dei preservativi. Jodie viene arrestata con l'accusa di omicidio premeditato e viene portata in centrale. Nonostante ci fossero decine di prove contro di lei, la ragazza continua a negare il suo coinvolgimento nell'uccisione di Travis. A questo punto i detective recuperano tutte le foto nella memory card, le stampano e le mettono sul tavolo di fronte a lei. Le chiedono se la ragazza nuda nella foto fosse lei, probabilmente una domanda retorica. Jodie però analizza la fotografia come se non l'avesse mai vista e poi dice che quella sulla foto le somigliava molto, ma non era lei. Poi continua dicendo che non poteva essere implicata nell'omicidio perché lei in quei giorni si trovava nell'aiuta dal suo ragazzo. Gli agenti quindi senza aggiungere nulla decidono di contattare Ryan per verificare l'alibi di Jodie. E lui dice sì, Jodie è venuta a trovarmi, ma aggiunge che il suo arrivo era previsto il 4 giugno, mentre lei è arrivata solo il 5, ovvero un giorno dopo l'omicidio. Ryan però continua dicendo che non ha notato nulla di insolito in lei, sembrava felice di essere con lui e hanno passato dei buoni momenti insieme. Jodie intanto continua a sostenere la sua innocenza, ma per sua sfortuna in quel momento arrivano anche i risultati di quella famosa impronta digitale, impronta di sangue trovata nella camera di Travis. E viene fuori che il sangue apparteneva sia a Travis che a Jodie. Questo significa che il loro sangue si era mescolato probabilmente durante l'aggressione e quindi Jodie aveva toccato il muro magari per sbaglio con quel mix del loro sangue. Arrivati a questo punto i detective sono stufi di sentire bugie da Jodie. Le dicono che ogni prova portava a lei, partendo dalle numerose testimonianze degli amici di Travis fino ad arrivare alle impronte, a sangue, alla pistola e infine alla macchina fotografica e a tutte le fotografie. Jodie a questo punto con tutta la tranquillità del mondo dice di volersi truccare prima di procedere con le foto segnaletiche. E quando gli agenti escono dalla stanza e lasciano la ragazza da sola, possiamo vedere che comincia a fare alcune cose molto strane, ma strane proprio per quel momento. Fa la verticale, canta canzoni, rovista nella spazzatura e scoppia a ridere da sola. Qualcuno ha pensato che questo è il tipico comportamento di una persona sociopatica, ma io mi sono fatto un'altra teoria. Solitamente chi ha un atteggiamento così tranquillo dopo un'accusa di omicidio, un'accusa così grave, probabilmente perché non ha la coscienza sporca, non ha nulla da nascondere ed è quindi innocente e quindi si comporta così con leggerezza. Jodie probabilmente ha messo in atto tutti questi comportamenti proprio per dimostrare o far credere che fosse innocente, facendo vedere appunto che era tranquilla e non aveva nulla per cui preoccuparsi, perché era innocente. Il giorno dopo però viene nuovamente interrogata e questa volta porta una storia diversa. Racconta che quel giorno si trovava effettivamente a casa di Travis, quando all'improvviso due uomini vestiti completamente di nero sono entrati in casa e l'hanno colpita alla testa facendola svenire. Al suo risveglio ha visto i due uomini con il passamontagna frugare nella sua borsa, scoprendo così il suo nome e il suo indirizzo di casa e minacciandola di non spoggere denuncia, altrimenti avrebbero ucciso lei e la sua famiglia. Dice che molto probabilmente i due avevano ucciso Travis mentre lei era svenuta e che era sinceramente spaventata all'idea di chiamare i soccorsi proprio a causa delle minacce ricevute e perché temeva per la sua incolumità, per questo è scappata senza dire o fare nulla. Il processo di Jodie Arias ha attirato tantissimo la curiosità dell'opinione pubblica. Molti hanno cercato in tutti i modi di entrare in aula e fuori dal tribunale si è formata una vera e propria folla. Jodie si presenta per la prima volta in aula con capelli e abiti trasandati e con degli occhiali da vista, che è la tipica mossa per assumere un aspetto innocente. La ragazza rimane calma per l'intero processo, non c'è una singola volta in cui si fa tradire dalla sua voce e questo probabilmente ha fatto sì che in molti abbiano creduto alla sua innocenza. Questo in aggiunta al fatto che il suo aspetto in generale a molti sembrava un viso angelico, l'aspetto di una brava ragazza che non sarebbe mai stata in grado di compiere un crimine così efferato. Al giudice tuttavia vengono presentate tutte le prove contro di lei, prove che dimostravano che l'omicidio era stato premeditato da tanto tempo e che Jodie aveva sempre voluto usare il viaggio nello Utah come alibi. I detective quindi ricostruiscono l'intero omicidio descrivendo anche come era il luogo del delitto al loro arrivo e come ogni singola impronta e schizzo di sangue combaciasse perfettamente con le dinamiche dell'uccisione. A quel punto Jodie scoppia a piangere. Anche qui è un mio parere personale ma questa è la prima volta che Jodie viene tradita dalle sue emozioni e secondo me succede proprio perché capisce di essere con le spalle al muro, cioè che non c'era più niente da fare. Ed è qui che molto probabilmente dentro di lei risuona un'unica domanda. E ora cosa dico? Così all'ultimo cambia di nuovo la sua storia, questa volta davvero in maniera poco credibile. In poche parole scarica tutta la colpa su Travis in lacrime. Dice che Travis era un manipolatore che cercava continuamente di controllarla, la insultava e la offendeva ogni giorno. Quando poi le chiedono se avesse ucciso lei Travis, lei dice di sì ma spiega di averlo fatto solo ed esclusivamente per legittima difesa. Continua spiegando che il giorno dell'omicidio Jodie è entrata in camera di Travis e lo ha sorpreso a masturbarsi sulla foto di un ragazzino. E qui ragazzi penso che abbia fatto traboccare il vaso o una cisterna direttamente. Oltre a farlo passare per un maniaco aggressivo ora stava dicendo anche che era un pedofilo. Secondo questa innesima versione la situazione poi è degenerata. Travis è diventato aggressivo e ha cercato di aggredire Jodie per via del fatto che l'ha trovato o che si masturava. E lei quindi per legittima difesa lo ha ucciso. Io non so quanto si possa definire legittima difesa dato che Travis aveva una ferita d'arma da fuoco alla testa e 27 ferite d'arma da taglio. C'è stato un accanimento piuttosto pesante su di lui. Infatti come immaginate e come speravano tutti questa storia non regge un secondo. E Jodie viene dichiarata colpevole. Il giorno dopo la sentenza la ragazza si presenta di nuovo in tribunale con una maglietta bianca con la scritta Survivor. Come a dimostrare che lei era sopravvissuta agli abusi domestici. Un insulto a chi li subisce davvero. Jodie Arias viene condannata dal giudice solo l'8 maggio 2013. La pena da scontare. Un ergastolo senza la possibilità di richiedere la libertà condizionale. Cercherà diverse volte di fare appello ma senza successo. L'ultima delle quali il 24 marzo del 2020. Come in ogni caso di omicidio passionale provo sempre profonda tristezza verso la vittima che senza saperlo è finita nelle mani della persona sbagliata. Da queste storie però possiamo trarre alcune importanti lezioni. Prima di tutto cercare di cogliere i segnali di un rapporto non sano e allontanarsi il prima possibile anche se so che in quel momento sembra difficile, sembra che non sia niente di che, ma è fondamentale pensare a se stessi e soprattutto amare se stessi. E seconda cosa ragazzi, ascoltate sempre gli amici se vi dicono che state avendo una relazione tossica perché loro dall'esterno riescono a capirlo o possono essere in grado di rendersene conto, mentre dall'interno è molto più difficile vederlo e poi accettarlo. Ascoltateli sempre. Ora quindi vi chiedo come al solito di farmi sapere cosa pensate della vicenda di Jodie e Travis. Secondo voi si poteva evitare? Cosa avrebbe fermato l'ossessione della ragazza? Intanto, mentre aspetto che mi scrivete le vostre considerazioni, vi anticipo che presto parleremo di una storia davvero strana con tanti colpi di scena e cose malate. Non saprei come altro definirle. La vedrete il prossimo venerdì. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale perché mi aiuta tantissimo. E anzi mettete anche un like perché quello aiuta ancora di più. Potete anche non iscrivermi ma se mettete like aiuta ancora di più. Se vi è piaciuto il video ovviamente. Se non vi è piaciuto mettete dislike. Se volete insultarmi, insulta... no scherzavo. Non fatelo. Quello non fatelo. Siate buoni nei commenti. Sia con me che con gli altri, ok? Comunque adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cuore ha colto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!